La seconda giornata di mobilizzazione nazionale della Commercio sulla legalità, si chiama Legalità mi piace, ci siamo già visti con lo stesso identico tema l'anno scorso, sono orgoglioso di poter ripresentare questa seconda edizione soprattutto alla presenza delle autorità che ho il piacere di avere qui al mio fianco. Ve le presento cominciando dalla mia destra il questore Moria. Alla mia sinistra il comandante, noi invece dicevamo prima perché è stato da poco tempo, nello scorso c'era il comandante Solomirino, oggi abbiamo il piacere di avere il comandante Tesi, comandante della Guardia di Finanza, il prosindaco Stefano Gasperini che da qualche settimana o già mese ha il compito di fare le intenzioni del sindaco per denunciare l'entità e le conseguenze sull'economia reale di fenomeni come l'abusivismo, la contraffazione eccetera e quant'altro che oltre a minare le basi del vivere civile favorendo di legalità le azioni criminose rappresentano in qualche modo una vera e propria forma di concorrenza reale che altera e curva il mercato e che alimenta l'economia sommetta.